L'intenzione è entrare qua, vedere questa voglia di stare insieme, vedere tanti ragazzi, bambini che giustamente nel rispetto di quello che è lo Stato italiano, quindi chiaramente nello studio della lingua italiana che fanno a scuola, però giustamente vogliono ritrovare e conoscere le proprie origini, studiare l'arabo, voglio capire tante cose, chiaramente la religione, credo che sia un messaggio proprio importante per la città. Qua noi siamo entrati in piena trasparenza e credo che anche per voi tutti la possibilità di far capire che siete voi i primi che volete chiarezza e trasparenza sia un segnale fondamentale. Alvega è una gran bella città e sono veramente convinto che tutti quanti insieme se riusciamo ad andare avanti ad affrontare tematiche complicate senza banalizzarle ma con l'obiettivo di conoscerci meglio tutti riusciamo a ottenere il risultato che credo sia il più importante, un'integrazione perché siamo tutti insieme e tutti vogliamo la stessa cosa, una città sicura, una città dove si possa vivere, una città dove ci siano possibilità economiche e per tutti. Quindi vi ringrazio molto, oggi è stata una giornata credo molto molto importante per la città.